Ho una domanda, ma che cos'è sta Quaresima? Cioè non abbiamo già così tanto da faticare tutti i giorni per trovare un modo per arrampicarci in questa vita? Ma poi non abbiamo già così tanti cruzi? La Quaresima non è il tempo in cui esaltare la sofferenza, il suo scopo è insegnarti ad evitarla o, se proprio non puoi farne a meno, trasfigurarla. Quando il Signore ti invita a portare la sua croce, ti invita ad imitarlo nel donarti, donare te stesso agli altri, essere disposto a tutto piuttosto che abbandonare la ricerca. Oggi ti viene chiesto di fare l'atto più rivoluzionario che un credente possa fare, la preghiera, che è proprio ritornare all'essenziale della vita e da lì ripartire. Grazie.